Allora, stasera tutti gli aggiornamenti del caso, vedo già che c'è Maria Laura pronta, ma prima di venire da te e sentire che cosa succede, andiamo a sentire l'opinione di uno dei protagonisti di questa svolta, di questo governo che sta nascendo, e cioè Matteo Salvini, che poco più di qualche ora fa, solo qualche ora fa, uscendo dall'incontro con Draghi, che gli chiederemo come è andata, ha detto così. L'Europa del lavoro, del benessere, della famiglia, dello sviluppo, questa è la nostra Europa, non dell'austerità, dei numerini, dei deficit e della precarietà. Ed è qui con noi e lo ringrazio il senatore Matteo Salvini, il personaggio di me, lei ha stupito tutti, senatore, quindi io sono contento di averlo qui a fuori dal coso, così spiega, ma che cosa sta succedendo? Perché insomma, tanti fanno domande, si chiedono. La prima domanda che le faccio però è più umana che politica. Lei era la prima volta che si trovava a colloquio con Mario Draghi per così, prima sabato e poi oggi, incontri così lunghi, che impressione l'ha fatto? Perché lei in passato aveva usato con lui anche parole dure, no? Sono girate in questi giorni i tweet, complice di chi massacra l'Italia. Ecco, che impressione ha fatto? Com'è andata umanamente? Ma era il secondo incontro positivo, sia in termini di empatia, però soprattutto sui temi, perché penso che chi è davanti al televisore in questo martedì sera non abbia problemi di legge elettorale, di destra, sinistra, sovranisti, europeisti. Il problema è molto semplicemente la salute, il lavoro, la scuola e le tasse. E quindi con Draghi siamo entrati subito in sintonia. Ci si può fidare quindi, perché la domanda che fanno a me, senatore, e che fa lei che l'ha avuto modo di incontrarlo, io vorrei essere lì, perché la domanda che fanno tutti a me, a me, penso che la faccia anche lei, ci si può fidare? Ma guardi, io faccio domande molto schiette e ho avuto dal professor Draghi risposte altrettanto schiette. Numero uno, esclude qualsiasi nuova tassa o qualsiasi aumento di tasse, come si leggeva negli ultimi mesi patrimoniale, aumento dell'Imu, tassa sui conti correnti? No, però esclude anche la flat tax. Quindi nessuna nuova tassa, anzi l'impegno ad andare a tagliare l'IRPEF. Esclude anche la flat tax. No, ma guardi, a me le etichette interessano poco. Se c'è l'impegno a non aumentare le tasse e a tagliare quelle esistenti, noi abbiamo offerto al professor Draghi una proposta di legge che è già presentata in Parlamento per il taglio dell'IRPEF e dell'IRES progressive. si può chiamare flat tax, si può chiamare Mario o si può chiamare Alberto. A me interessa per parte di un governo che si impegna a tagliare le tasse dell'Italia. Se la chiama Mario mi piace però, se taglia la tasse e le chiama Mario sono contento. No, questo l'ho capito però... Quindi il no all'aumento di nuove tasse, anzi di più, noi abbiamo portato la proposta di pace fiscale sulle cartelle di Equitalia che abbiamo già approvato quando eravamo al governo e che vorremmo approvare se torniamo al governo, quindi dal punto di vista fiscale D'Ingaretti ha detto nessun condono? No, no. D'Ingaretti... Ma qua non si tratta di condonare, si tratta della rottamazione delle cartelle esattoriali per importi limitati di alcune migliaia di euro che per i danni portati dal Covid evidentemente milioni di italiani non riescono a pagare. È gente che ha fatto la dichiarazione dei redditi e non è riuscita a pagare tutto quello che doveva. Uno Stato saggio viene incontro a queste persone, chiede loro il pagamento di una parte di quella cartella, lo Stato incassa e milioni di italiani si liberano dal cappio di queste cartelle. Però qui veniamo al secondo punto, alla mia seconda domanda chiave, perché una volta posto che il leader è Draghi, tutti speriamo che riesca a fare la cosa, però poi la domanda è ce la può fare con la grande ammucchiata? Anche lei fino a qualche giorno fa diceva Michael PD, Michael 5 Stelle, poi le circostanze costringono a fare questo grande raggruppamento di tutte le forze politiche, ma poi sulle cose, perché poi ha un bel voglio parlare di governo tecnico, ma poi bisogna fare le scelte. Allora, si può andare d'accordo con quelli che fino all'altro giorno chiedevano il suo processo? Ma guardi, patti chiari è amicizia lunga. Se ci sono forze così diverse al governo, bisogna stilarsi delle priorità, mettere in mano al professor Draghi le emergenze del paese. Io penso che la salute non sia di destra o di sinistra. Quindi fare un piano vaccinale serio, superando gli errori del passato, evidentemente, perché la gestione dei mesi passati non è stata ottimale. Se mancano i vaccini, mancano i medici, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Noi abbiamo offerto il modello Bertolaso, il modello Lombardia, che è la regione che sta vaccinando di più, meglio e più in fretta. Però, ripeto, non ci attacchiamo a questa o a quella bandiera. Quindi la salute non ha partiti. Il diritto al lavoro e il taglio delle tasse non ha colore politico. La stessa immigrazione. Noi abbiamo detto, adottiamo le regole degli altri paesi europei. Facciamo come fanno in Spagna, come fanno in Francia, come fanno in Germania, come fanno in Ungheria o come fanno in Slovenia. Vista Antipatico Salvini, prendiamo la normativa di controllo dei flussi migratori che funziona negli altri paesi europei e adottiamo i controlli degli altri paesi europei. Io ho iniziato questa puntata facendo la santificazione perché l'hanno incensato moltissimo di San Mario Draghi. Ma lei mi sta dicendo che San Mario Draghi riuscirebbe a far fare un accordo sull'immigrazione fra lei e il PD e l'EU. Ma guardi, qua non ci sono santi. C'è un grande paese che ha voglia di tornare a vivere, che ha voglia di essere curato e di tornare a vivere. Di questo abbiamo parlato con il professor Draghi, di tornare a uscire, di permettere agli italiani di lavorare, lavorare nei bar, nei ristoranti, nelle palestre, nelle piscine, nei teatri, negli alberghi di montagna, in sicurezza e pagando un po' meno tasse. Fatto questo, è chiaro che poi i partiti torneranno a dividersi, però adesso c'è un'emergenza che per quello che mi riguarda prevede compattezza, sacrificio, unione, responsabilità. Io, Mario, avrei avuto vita più comoda probabilmente, dicendo di no, stando seduto fuori, attendendo che i problemi si sommassero ad altri problemi per poi dire adesso tocca a me. però ogni giorno chiudono aziende. No, no, ma questo è chiaro. Hanno chiuso 31 mila fabbriche negli ultimi anni. E lo stiamo raccontando, però... Quindi o qua c'è un piano di rilancio e tu documenti con la tua trasmissione Lo raccontiamo e anche stasera lo racconteremo. Però, senatore, il punto poi è quello... Su questo siamo d'accordo e io credo che dire, sperare che Draghi ce la faccia a tirare fuori l'Italia dalle secche sia sentimento di tutti, anche di quelli che stanno all'opposizione e che non votano come Giorgio Meloni, il problema è poi nel concreto lei parlava della salute ma lei poi bisogna capire perché fino adesso c'è stato un ministro che ha fatto l'opposto di quello che lei diceva e che ha... Allora, se il ministro rimane quello perché rimane con la forza politica si può fare un accordo? Guardi, noi col professor Draghi appositamente non abbiamo parlato di ministri di totto ministri di ministeri e di sottosegretari mi sembra che il professor Draghi abbia chiaro quello che ha funzionato in Italia nei mesi e negli anni passati e quello che non ha funzionato e quindi lasciamo a lui l'onore e l'onere di una nuova partenza di una nuova squadra è chiaro che se si fosse avuta la riedizione di un altro governo Conte con gli stessi ministri gli stessi partiti ti saluto e arrivederci se c'è una marcia nuova e se c'è in Europa una persona come Mario Draghi che è in grado di ridiscutere tutti i vincoli europei che sia io che te abbiamo contestato e continuiamo a ritenere sbagliati l'austerità il patto di stabilità il 3% la chiusura delle scuole la chiusura degli ospedali se c'è la possibilità di ridiscutere queste regole europee che hanno fatto solo disastri e una persona come Mario Draghi lo può fare lo può fare ben più rispetto a quello che non potesse fare con tutto rispetto a Giuseppe Conte ebbene io mi gioco la partita dell'Italia che torna protagonista in Europa questo è comprensibilissimo resta sempre poi il problema appunto della tenuta della maggioranza cioè delle forze politiche perché o si escludono le forze politiche oppure poi un passaggio delle forze politiche e la paura io credo è anche di molti perché ho sentito in questi giorni molti sindaci imprenditori pensionati io credo che tutti dicano se si può fare bene bisogna sostenere sperare che vada bene ma come può andare bene se i partiti già litigavano prima adesso se ne aggiungono ancora degli altri a metterli tutti insieme non rischia di essere che fra due mesi stanno a litigare ma guardi qua ci tratta di mettere una lista di poche cose da fare farle bene e farle in fretta piano vaccinale potenziamento degli ospedali riapertura in sicurezza di scuole e università perché ci si dimentica sempre e taglio della burocrazia per far ripartire i cantieri fermi che ci sono in mezza Italia già questo in alcuni mesi avrebbe del miracoloso poi è chiaro che io col PD piuttosto che con altri partiti di sinistra ho una visione della vita differente su tanti temi però su questo ci si può mettere d'accordo e lei sarebbe anche disposto una volta messa in sicurezza l'Italia una volta messa in sicurezza l'Italia e il futuro dei nostri figli poi potremo tornare a competere ognuno con le sue differenze ma in questo momento io penso che le persone si aspettino concretezza serietà poi torneremo a dividerci più avanti ma in questa concretezza lei sarebbe disposto ad entrare nella compagine ministeriale so che non avete fatto nomi però diciamo come disposizione d'animo lei vede più per mantenere questo progetto e questi impegni più un governo politico con dentro anche personalità politiche di peso o vede più un governo invece in cui i partiti stanno fuori e vigilano e ci sono dei tecnici che gestiscono le cose ma guardi questa è una scelta che spetta al professor Draghi io rispetterò qualunque scelta lui faccia se mi si chiede di far parte di una squadra io per carattere la partita me la gioco non sto in panchina a guardare gli altri quello che fanno e a criticare se qualcosa non funziona l'ho dimostrato quando ho fatto per un anno il ministro dell'interno con i risultati che gli italiani ricordano e con i dieci processi che ho sulle mie spalle voglio dire sono spalle larghe però posso essere rimproverato fuorché di mancare di coraggio quindi se mi venisse chiesto di dare il contributo per carità di Dio in base alle mie competenze non sono uno di quei politici onniscenti buoni per tutte le poltrone quindi se mi venisse chiesto di dare il mio contributo sicuramente non mi tirerei indietro il bello della Lega che però ha tante donne e tanti uomini in grado di ricoprire ruoli diversi lei parlava dei sindaci pensi che abbiamo quasi un migliaio di sindaci che fino a settimana scorsa non erano stati minimamente coinvolti né sul tema dei fondi europei né sul tema dei piani vaccinali ebbene se riusciamo a ricoinvolgere l'Italia dei comuni dei sindaci e delle associazioni già sarà un governo che parte con una marcia in più però la Lega c'è se serve la Lega c'è fa le sue competenze e sente più la materia della difesa o l'agricoltura? adesso non sono un uomo buono per tutte le stagioni che può fare il ministro diverso a seconda dei governi diversi però ripeto mentre altri stanno parlando di posti io preferisco parlare di temi ecco l'unico ministero di cui ho parlato oggi col professor Draghi è quello della disabilità senza fare dei nomi però al primo governo Conte noi mettemmo il ministero per le disabilità che poi fu cancellato inspiegabilmente come impiacerebbe che i 6 milioni di italiani che convivono con una disabilità tornassero ad avere un ministero di loro riferimento per dare risposte pronte ed efficaci poi chi lo fa mi interessa poco l'importante è che ci sia l'ultima questione perché so che poi ha degli impegni ci deve lasciare ma non posso far meno Giorgia Meloni vi siete sentiti in queste non posso far meno perché fra le altre domande che naturalmente girano è ma allora cosa succede la seconda volta che si separa il centro-destra vi siete sentiti che cosa pensa del futuro dell'alleanza andrete insieme alle prossime amministrative le ho espresso la solidarietà non politica ma anche umana e in amicizia per il volgare attacco che è stato fatto a lei alla sua bimba alla sua famiglia alla sua vita privata e quando si attacca una persona per la sua vita privata si scade veramente nel meschino ci rivedremo penso già settimana prossima no lo dico per la mia mamma che non c'è uscito un articolo con parole piuttosto vergognose sulla Giorgia Meloni e su suo figlio ecco questo è successo quindi al di là al di là di questo che quando si tirano in ballo i bambini e capita anche a me purtroppo spesso non si fa mai niente di intelligente però ci troveremo già settimana prossima perché voteranno in primavera quasi 20 milioni di italiani per eleggere i sindaci di Roma di Milano di Torino di Napoli di Bologna di Trieste e quindi il centrodestra a stasera governa compatto in migliaia di comuni in 14 regioni su 20 quindi non ci sarà divisione a livello territoriale si voterà ad esempio in regione Calabria nelle prossime settimane quindi offriremo il modello di buon governo del centrodestra a tutti gli italiani che lo sceglieranno avrei preferito che il centrodestra fosse compatto anche nell'avventura che sta per nascere attenzione sta per nascere perché Mario tu lo sai che siamo in mano alla piattaforma Rousseau di Grillo e Casalezzo e quindi bisogna vedere cosa succede ma nascerebbe anche senza di loro potrebbe nascere anche senza di loro anche se sarebbe più risicata comunque io ho fatto una scelta precisa magari scomoda ma precisa ho messo il bene del paese davanti all'interesse del mio partito e mio personale io credo che stasera lei l'abbia l'abbia spiegato è chiaro che non sarà un'alleanza che va avanti all'infinito perché su alcuni temi su una visione del mondo evidentemente per me ci sono la mamma e il papà non il genitore uno ma il genitore due però ripeto l'emergenza dell'Italia in questo momento è restituire salute lavoro e speranza ai lavoratori e alle famiglie italiane ci mettiamo insieme per risolvere questi tre problemi uscire da sto fottutissimo virus perché non ne posso più di vivere prigioniero di paura e di distanza e poi torneremo a competere però prima mettiamo in sicurezza io c'è questo oggetto qua senatore che qui sono molto affezionato lei lo sa ruspa 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 la ruspa una ruspa la mettiamo in garage ce l'ho anch'io qua in ufficio no ce l'ho anch'io in ufficio resta lì la ruspa sotto il casco dei vigili del fuoco no ma guarda la ruspa ci sono ci sono da riaprire 700 cantieri in Italia tu pensa che per ogni miliardo di euro speso in lavori pubblici in opere pubbliche ci sono 15 mila posti di lavoro quindi siccome ci sono 70 miliardi di euro di appalti fermi ponti scuole caserme strade viadotti sono un milione di posti di lavoro pronti quindi io spero che usiamo la ruspa per i cantieri usiamo la ruspa per i cantieri perfetto in questo momento la ruspa va usata per costruire 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 grazie molto senatore Salvini grazie davvero di essere stato una fortuna una fortuna e grazie ne parleremo